ci manda dal ministro della cultura al cairo ministro della cultura al cairo fortunatamente aveva una moglie ballerina della scala signora bellissima fantastica è un altro media il suo libro veramente ne ho due il suo libro ma se non lei non serve a me per il mio marito il ministro si per farla breve dopo un anno io torno in egitto le guide tutti sardana sardegna catechizza catechizza certo adesso ci sono anche i video di questi professori del chiamavano del cairo che chiamavano sono state e questi imbecilli di non chiamo gli arti o buoni come le chiamano domenica sardana non sono mai stati sapere no ma pre lo sai